Grazie a tutti Sì, per te raccontare che ci sono qualcosa che si è successo a l'autobusco stagione di Grasco 3. Ok, grazie, cosa vuoi? Non posso capire, non posso capire. Non mi guarda, non mi guarda, non mi guarda. Oggi è l'energia! a Epa epa. Epa. Io! Io labeli. Apa. Guarda e ilничtito. Io! Réal solar. O. Réal. 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 Bai. Réal. 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 che mu lafo smetaju na pectorisu! Aaaaaaah! No, kad se čovjek nađe na toj platformi, može da dodirne nešto grublje i rapavije. Idemo zeskro! E, ga vidi, ja, ja videlci na gondola, na una bella, belissima gondola. U omi, kako se svađare sa drugi, u omi, sto mu ovaj stari na kudije oki. A povučena kovitlacom, ptica polete! Ptica leti! Ptica leti! Zatim, ptica se srmo glavi! Ptica se srmo glavi! Ište pra putar lena! Meneci naša od zezas! Mene! Mene!